Volete preparare un piatto pieno di profumi? Allora seguitemi, io sono Lori, questo è il mio canale di cucina Greedy Web e oggi prepariamo il cavolfiore al curry. Gli ingredienti li dirò man mano nel video, ma li troverete iscritti per esteso a fine video e anche sotto il video nell'info box e nel blog. Per farlo occorrono due cucchiai di prezzemolo tritato, peperoncino, una presa di zucchero, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, due cipolle, 250 ml di acqua, mezzo bicchiere di olio d'oliva, un pizzico di curry, un pizzico di semi di cumino, alcune gocce di salsa Worcester, mezzo cucchiaino di semi di senape, non avendola usato la senape normale, 125 grammi di pomodori privati della boccia, dei semi e tritati. Un cavolfiore da un chilo, inoltre occorrono un pizzico di sale, un pizzico di comino macinato, 20 grammi di burro. In una casseruola mettiamo l'olio, mettiamo la senape o i semi di senape. Se mettiamo la senape normale, subito dopo dobbiamo mettere le cipolle perché come vedete schizzera molto, per cui state attenti. Aggiungiamo il comino, lo zenzero, adesso mescolate e fate insaporire per qualche minuto. Un pizzico di sale. Adesso aggiungiamo il cavolfiore e mescoliamo. Aggiungiamo il pomodoro. Peperoncino. Vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Adesso mettiamo alcune gocce di sasso Worcester. Il carry. Lo zucchero e un po' di prezzemolo. Il comino macinato. Lasciamo cuocere a fiamma bassa per 30 minuti. Mescoliamo ogni tanto. Passata la mezz'ora aggiungiamo il burro. L'acqua. Il prezzemolo. E completiamo la cottura. Servite bello caldo. E il piatto è pronto. E' una ricetta facilissima. Un profumo di spezie. Un piatto gustoso che si può servire anche a freddo. E voi non vi resta che replicarlo nella vostra cucina e farmi sapere cosa ne pensate con un commento sotto il video o un mi piace. Ricordate iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Mi trovate anche su Facebook o su Instagram. Vi metto i riferimenti sotto il video nell'info box. Ragazzi io mangio e buonissimo. Vi aspetto il prossimo video. E continuate a seguirmi. Un abbraccio. Ciao a tutti.